E' terminato l'incontro Virtus Castelfrentano-San Puceto Calcio con il risultato di 7 a 2 7 a 2 il risultato Ecco, si salutano a centrocampo con l'arbitro, ottimo arbitraggio Grazie, speriamo bene Ecco, vanno a centrocampo Ecco, i nostri ragazzi Raggruppatevi Attenzione Attenzione Brava, so, so Brava! E' in questoio Urra! 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 Ecco, continua la serie positiva della Virtus Castelfrentano Continua la serie positiva della Virtus Castelfrentano Agganciato il secondo posto nel campionato Giovanissimi, Girone, Chieti Agganciato il Ripa Teatina Il Ripa 2007 Gioca, gioca, andiamo a vincere lo squidetto A posto A posto A posto